Salvatate ben tronati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo vi ti spiego come aprire un file, una cartella, qualsiasi cosa sul tuo computer con un solo clic. Quindi in questo breve tutorial ti spiego come aprire qualsiasi cosa con un solo clic senza cliccare due volte con il mouse. Andiamo direttamente su opzioni, esplora file, ci clicchiamo sopra ed eccola qua. Selezione e apertura oggetti. Se metto doppio clic per aprire l'oggetto faccio applica. Clicco una volta sopra, non va, due volte e si apre la cartella. Un clic per aprire l'oggetto faccio applica, clicco sopra ed ecco qua che la cartella si è aperta con un solo clic. Sottolinea titoli delle icone solo se selezionati e fai ok, è fatto. Come aprire qualsiasi cosa con un clic. Quindi grazie a tutti per questa visione, per questo breve tutorial. Quindi grazie a tutti e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.